Il popolo che al suo arrivo a Gerusalemme aveva accolto Gesù come un re, adesso spinto dai potenti, vuole che sia condannato a morte. Tra tradizione e innovazione la comunità di Castiglion Fibocchi è tornata dopo anni a rappresentare dal vivo la Via Crucis. Tra le novità di questa nuova edizione il fatto che tra i 100 protagonisti ben 80 fossero bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni. È veramente stata una grandissima soddisfazione, io parlo come organizzatrice, una delle tante organizzatrici di questa manifestazione, ma soprattutto anche come vice sindaco e assessore alle politiche giovanili. Perché veramente questa, non avremmo mai pensato, ma è stata una manifestazione che ha riunito veramente tutto il paese, dai più piccoli ai loro genitori e ai loro nonni. Questa esperienza è sicuramente un'esperienza entusiasmante per i bambini che recitano delle parti così drammatiche, sono tutti seriamente coinvolti nel rappresentare degnamente questo momento. Basta guardare questi giovani, è una cosa meravigliosa, è veramente una rappresentazione, però una rappresentazione data dal cuore, dal sentimento, dall'emozione, dalla felicità e anche da una spiritualità molto importante e profonda. Grazie